Quanto è attuale questo linguaggio mediterraneo di De Andrè? Tantissimo se si pensa soprattutto a quella che è stata la cronaca degli ultimi anni con quello che è diventato il Mediterraneo, ovvero un mare non solo di incontro tra più culture e più terre come lo è sempre stato, ma anche un luogo dove ormai sono all'ordine del giorno emergenze, dove le richieste d'aiuto da popoli che noi abbiamo dimenticato si fanno sempre più pressanti e io ho provato a raccontare attraverso un autore come Fabrizio De Andrè quanto è importante oggi per noi il punto di vista mediterraneo che abbiamo un po' perso nel corso degli ultimi anni, questo sicuramente. Oltre alla presentazione del libro c'è anche uno spettacolo, di che cosa si tratta? Un accompagnamento musicale sulle parole che raccontano un po' quelle che sono stati fatti della vita di De Andrè. All'interno non ci saranno soltanto delle musiche di De Andrè ci saranno altre musiche di altri autori che hanno sempre utilizzato un linguaggio mediterraneo, cioè il dialetto, per esprimere dei messaggi molto importanti nelle loro canzoni. Quali sono le parole più importanti di De Andrè? È una prova questa che ti sto facendo. È molto difficile trovare delle parole più importanti di De Andrè, anche perché come sappiamo bene lui era una persona che ogni parola la misurava e la calibrava molto bene. Quindi andare alla ricerca della parola importante è difficile. Magari possiamo andare alla ricerca invece di quello che voleva essere il suo messaggio espresso con l'unione delle parole, con la bellezza dei suoni anche delle parole. Andrea, questo libro quindi racconta questo linguaggio mediterraneo, tu facevi riferimento al fatto che oggi è necessario parlarne perché siamo diventati un popolo forse meno accogliente, molto più diffidente. Esattamente, più che altro è anche una chiusura che abbiamo fatto, un muro nei confronti di altri popoli che in passato hanno sempre trovato modo per collaborare, per creare sanissime contaminazioni e tutte queste contaminazioni le possiamo ritrovare nella nostra cultura. Nel disco ad esempio Creusa dei Maghi di Andrè che analizza in questo libro faccio capire anche come un porto a noi apparentemente lontano come quello di Genova sia stato un porto dove si sono incontrate tantissime culture meridionali parlando proprio dell'Italia ma anche di altre nazionalità come il Portogallo, la Spagna, la Turchia e anche nazioni dell'Africa. Detto questo è chiaro che è molto importante al di là di quello che sta succedendo nell'attualità cercare di far creare nel lettore e nello spettatore anche dello spettacolo dei punti interrogativi su quello che sta succedendo attorno a noi. Quindi De Andrè noi oltre a vederlo come un faro, un artista che va necessariamente ricordato, lo utilizziamo anche come strumento per far veicolare dei messaggi particolarmente importanti non solo per oggi ma anche per il futuro. Vi aspettavate tutta questa presenza di crotonesi interessati al libro, alla conoscenza di De Andrè insomma a rivivere questo momento? Guarda io dalla Calabria non mi aspetto più nulla perché io studio qui in conservatorio in Calabria e ho una parte del mio cuore che non mai sta qui. Qual era l'obiettivo di questo incontro dedicato a De Andrè? Creare dei mutamenti spettacolari. Ancora una volta ci siamo riusciti grazie ad Andrea Martino e Giuseppe Fioranti, due ragazzi pugliesi che si sono messi in contatto con l'associazione Mutamenti e ancora una volta si sono messi in gioco senza pretendere altro. Quindi si sono messi in macchina, noi gli abbiamo organizzato l'incontro e oggi come potete vedere sono arrivate decine e decine di persone per sentire il loro lavoro sul Mediterraneo di De Andrè.